Quattro passaggi per fare un'ottima impressione alla donna che ti piace. Stabilisci un contatto visivo, guardala, falle capire che insomma sei interessato, ma non fissarla. Due, falle domande aperte rispetto ai suoi interessi, che cosa le piace fare nel tempo libero, per esempio, quali sono le sue passioni, ma non farle l'interrogatorio da detective, come vi ho già detto. L'importante è essere curiosi senza essere invadenti. Tre, dalle tutta la tua attenzione, ascoltandola, facendole delle domande interessanti, però allo stesso tempo non diventare il suo tappetino, cioè abbi rispetto di te stesso, ok? Della tua autonomia, della tua dignità. Quattro, piuttosto che i soliti complimenti, sei bellissima, sei stupenda, eccetera, 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 falle un complimento sincero e significativo. Uno solo, ma autentico.